Ma che stregoneria è questa ragazzi? Questa è un'arma, non è una mela Ma cos'è questo? Il kit dei poveracci? Caduta dall'alto, boom! No, è un tralucavo, c'è la lava Una cesta, dentro la cesta, dentro la cesta Prendiamo fuoco perché sei un vecchio animale Non lo fare mai più Un'isola di diamante, ragazzi Eclissi isolare Benvenuti in questo sesto episodio della serie di The Highlands of Junara La serie più isolosa della storia Nell'episodio precedente, che trovate sempre in descrizione insieme a tutti i miei social Eravamo riusciti a morire per la prima volta Ma non era stato tanto un fail Più che altro era stata la disfatta dell'isola dei pirati E poi cosa? Per un diamante Che poi ci ha fatto fare il blocco, è vero Però un diamante, noi siamo morti, fanculo Giuro solennemente che tipo tra due anni Quando mi sarò scordato nuovamente di ciò che si prova a giocare a desert Dove giocare a farlo, l'hardcore su desert Dove giocare a lì, sì, che periremo Cazzo step ormai l'hai detto, quindi qualcuno se ne ricorderà E sarai fottuto, va bene così Ragazzi, mi raccomando, 40.000 like come al solito E let's go! Devo dire la verità, non è che io sia andato tanto avanti con l'isola Piuttosto mi sono preso un po' di materiali E ho già fatto un ponte per andare avanti Nella nostra storia Mi avete scritto che forse un pochino più pazzerello Potrei anche esserlo E cercheremo di trovare una mia di mezzo Di essere leggermente consapevoli di quello che stiamo facendo Solo un po' di cazzate Il giusto, quello che basta E mi avete anche detto che sto andando solamente verso di là Sarrebbe bene esplorare anche quest'altro lato Dove c'è la zona ghiacciata Dove mi ricordo feci un fail allucinante nella serie con Surge e Vegas Però anche quella casa laggiù ci ispira molto Perché in quella zona, se non sbaglio Dovrebbe esserci la fatidica spara di Junara La spara, sì, non la spada La spada di Junara dovrebbe essere effettivamente La spada più forte di questa mappa Mi avete ripetuto più volte che non è in realtà questa qui La error 400 la più forte Per me non c'è alcun problema ragazzi Se ce n'è una ancora più forte L'accetto ben volentieri Oh, che cosa sta succedendo? Perché non va... Ah, che cosa sta succedendo ragazzi? Sta laggando bene Perché questo? Un pantaloncino Un po' di oro che non ci serve più a niente E un diamante Il diamante invece è buono Questo qui invece lo spacchiamo perché non serve a granché Ma è diventato di maiali! Ma che stregoneria è questa ragazzi? Fatemi capire Abbiamo uno spawner di... Oh! È sparito! Qui qualcuno mi deve delle spiegazioni Aspettate vai che riavvio tutto Se vuoi riuscire a trovare un diamante Anche un paio di pantaloni Che non sembra male Mettiamocelo Potrebbe essere la nostra salvezza Considerando che ha protection Mi era venuto in mente di dirvi Che ho notato il piccone che abbiamo a fortuna Questo significa che se troviamo una fonte di diamante Potrebbe darcene anche più di uno di diamante Sarà anche difficile muoversi qui in mezzo al ghiaccio Però noi abbiamo un secchio Ci basterà fare in questo modo E creare dei collegamenti, no? Come vi ho insegnato precedentemente Una volta fatto questo Beh, lì allora potete andare a Acab Avete buttato l'acqua Avete la coscienza pulita Potete spaccare anche lo spawner di merdoni Qua via uno E via anche due Golden Savior Questa è un'arma Non è una mela Vabbè, in caso possiamo sempre usarla come mela d'oro viola Ma io sinceramente non ci credo Che qua c'è solamente questo, sai? C'è per forza qualcos'altro Ad esempio, quella lì sembrava tipo una casettina rivoltata Vuoi che non ci sia qualcosa al suo interno? Non ci credo mai C'è una chest Con un cappellino Delle scarpe Ha una cetta Ma cos'è questo? Il kit dei poveracci Possiamo tornare su? Con tutta tranquillità Quest'isola è stata esplorata E ci avviamo verso la Catapecchia La chiamo così non a caso Me lo ricordo che è completamente disfatta È tipo una di quelle ville invernali Alle quali è rimasto veramente poco da dare Mi avete chiesto se avessi avuto mai un'isola preferita Allora diciamo che la chiesa demoniaca Mi ha sempre dato il filo da torcere Però se ce n'è una che voglio visitare Con grande piacere È quel bozzolone lassù nel cielo Non ho mai avuto modo di esplorarlo tutto E secondo me c'è un botto di roba L'isola l'abbiamo raggiunta Sarebbe bello anche farsi una pala Poi io sono stato anche incosciente dal dire Non guardiamo se c'è uno scaldro che può buttarci nel vuoto E ucciderci tipo questo creeper del cavolo qua Va bene che ho fatto la prima morte Ma questo non significa che adesso io voglia morire di continuo eh Mi ricordo bene di questa zona Qua dentro esatto C'erano i creeper Aspetta eh Che lo secchiamo da sopra Caduta dall'alto Boom Follow this path Sì certo Mi lo ricordo che ci sono le string Andiamo avanti ficchiando Così le spacchiamo e non facciamo partire la trappola Guarda la pressure plate della morte Corro, 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 corro You're good at dodging traps I see Lo so Grazie Diamanti Smeraldo Stick E pollo A meno che non ci fossero le trappole Era un troll Non ci posso credere ragazzi Era un troll No era un troll Un cavolo C'è la lava Vabbè sciala Quello che dovevamo prendere l'abbiamo preso È stato un bel bottino Considerando che abbiamo trovato due diamanti senza fare nulla Qui dobbiamo buttare giù Vabbè facciamo prima passare dalla porta mi sa Il diario di Larry Che cos'è questa co Ehi la la Vai via tu Aspettate eh Che prima mi sa che dobbiamo fare i pulisti Qua un secondo Datemi un attimo di tregua Ma dov'è che arrivano Non c'è lo spawner qua Ah aspetta Sicuramente è tipo sul tetto C'è il sottotetto eh Fatemi salire sul tetto E c'era qualcuno Non ci sarà nessuno Però c'è una cesta Artifact chest chest C'è una cesta dentro la cesta Che si chiama chest 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 Una cesta dentro la cesta dentro la cesta E un amazing chest Va bene se lo dici tu Comunque non me ne ero reso conto Ma abbiamo gli smeraldi eh Con un altro smeraldo qua facciamo il botto Ma vuoi che dentro è qua Eh lo sapevo Lo stavo per dire che dentro c'era per forza lo spawner Ce ne scendiamo dal camino come Babbo Natale Prendiamo fuoco perché sei un vecchio animale Prendi l'acqua muoviti Stai bruciando vivo Porca miseria Aia 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 Non beh non beh Non beh Di nuovo nella cacca di nuovo Di nuovo nella cacca Scappa di qui per piacere Grazie L'avevo detto eh Un pochino più pizzarrino Mangiamo il pane per rifocillarci E qua dentro se non sbaglio Non c'era granché Però un'occhiata gliela diamo lo stesso Ciao Enderman voglio La Ender Pearl Due Ender Pearl Very good E invece delle frecce Le frecce per quanto possano sembrare inutili Sono molto molto buone Di avanti le frecce ci serviranno più di quanto pensiamo Quindi lascia anche il gunpowde Anzi lascia lo snowball Invece come al solito qua Le provviste di oro inutili Il ferro invece mi ci faccio qualcosa Buongiorno La prossima a ruota è questa qua Perché dobbiamo completare teoricamente il ponte Per arrivare fino alla lava Che dovrebbe contenere qualcosa In cima alla lava c'è del ferro Sono più che sicuro che ci siano anche dei diamanti Ho questo ricordo nella mia mente che forse non sbaglia Devo stare attento però a fare un po' di economia dei materiali Perché non è che ne abbia veramente tanti eh Sta diventando notte Non è bene questo per nulla Metti un po' di torce qua E là Questo ti era sfuggito per esempio Non lasciavi lì a farti esplodere Non bene Vediamo se ci riusciamo ad arrivare laggiù eh Penso e spero proprio di sì Ho anche la legna e la dirt da parte Quindi dovrebbe essere sufficiente È nato uno zombie Non mi piace per niente questa cosa Infatti sta venendo da me Oh ma come cavolo fai? Che c'è? Il radar Probabilmente hanno il radar veramente Piuttosto sono io stavolta comunque ragazzi A chiedere a voi Quale sia la vostra isola preferita Così magari se ancora non ci siamo stati Do la precedenza a quella E andiamo a farci un salto Non scrivete la cazzo di chiesa demoniaca Per piacere Se noi saliamo in cima Con la legna È pericoloso Meglio mettere un po' di dirt Eh la storia di Pinocchio ragazzi Non vi ho insegnato niente Il legno prende fuoco E noi non vogliamo rimanere senza gambe O meglio senza vita del tutto Potrebbe essere ancora peggio È anche vero che spechiamo tutto il materiale così Vabbè d'altronde io voglio arrivare in cima Buttare una secchiata d'acqua E vedere che caspita succede Dovrebbe bloccarsi tutto Non lo fare mai più Tu stai salti facendo non shift Per cercare di cadere nel vuoto Cos'è? A questo punto lanciati che fai prima E faccio la scala È per il semplice motivo Che dopo vorrei anche tornare indietro In qualche modo Ecco C'è un diamante ragazzi Lo vedete? È stata un'ottima scelta venire qua Dammi sto blocchettino qui E cerchiamo di avanzare ancora un po' Non ti bruciare Bravo E ci buttiamo ora l'acqua L'acqua Perché è ricordata È importante E adesso proviamo a lanciarci una secchiata d'acqua Una qui e una qua Oh un altro diamante Che bello Ci sono anche altri diamanti? Oh mio dio Questo è il bottino che cercavo ragazzi Vediamo se riesco a tappare qui eh Penso proprio di sì Dovrebbe essere abbastanza semplice Ancora lava Ma che due coglioni Si divertono proprio tanti i creatori delle mappe A sfruttare la lava in questo modo Guarda là Oh mio dio ragazzi Il giacimento di diamanti Ecco il legno che prende fuoco Eh prima o poi dovrebbe succedere eh Questo dovrebbe essere il primo diamante che posso prendere Dimmi che me ne dai più di uno Me ne ha dati due Forse posso prendere pure questo Sì Più o meno Più o meno direi Un'isola di diamante ragazzi Non l'avevo mai trovata se non sbaglio È uno spettacolo Cioè questo mi garantisce Finire tutti i pezzi di diamante Nel monumento Che significa Se poi andiamo a cazzeggio per l'isola Una volta finito il monumento Siamo contentissimi Perché tanto abbiamo completato l'obiettivo Che gioia Che gioia Oh cazzo lava 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 Aspetta è che devo tappare al volo Vai così Abbiamo trovato la nostra fortuna Aspettate eh Che ne approfitto Sei blocchi di diamante in un colpo solo Mi sa che ora non avrai paura A farti un'armatura completamente In diamante Stavo per tappare con un blocco di diamante Ormai sono troppo ricco Vi ricordo anche che avere tutti questi diamanti Mi permetterà di farmi una bella armatura Con i controcoglioni E quindi potrò rischiare ancora di più In mezzo alle isolette Eh sì perché se ve lo ricordate Abbiamo anche Il tavolo degli incantesimi Quindi possiamo fare tutto quello che vogliamo Oh che bello Sì i diamanti Per adesso i pantaloni tengo questi Perché non sembrerebbero essere proprio malvagi Nove blocchi Che si fa? Vado avanti tutto il tempo qui In mezzo alle ricchezze della mappa Non avrei scommesso una lira Sulla presenza di tutti questi diamanti qua Veramente non me lo ricordavo Arriva lava Bloccala Dammi l'acqua Devo sloggare? No 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 eh Ah ecco meno male Perché qui ci sono tanti diamanti Ma c'è anche tanta lava E noi non ci rendiamo conto di sta cosa Meno male ho fatto il ponticino Me ne torno a casa nel lettino Completiamo alla grande Tutto il monumento Per quanto riguarda i diamanti Abbiamo trovato otto smeraldi Abbiamo visitato una Due e tre isolette Più o meno Perché quella lì non è considerata un'isoletta Cosa volete di più? Cioè veramente è stato un botto Sto episodio Emerald block non ce l'abbiamo Abbiamo il diamond Un altro diamond Un altro diamond Un altro diamond Un altro diamond E basta Ok mi sono avanzati Sette blocchi di diamante Non è che saranno un po' troppi Adesso sti blocchi di diamante Per par condicio Farò la statua Di un pene di diamante Nella mia isoletta principale Dai facciamo così Mi aggiungo un altro obiettivo Da ora in poi Tutti i blocchi di diamante Li useremo per fare la scritta Step All'interno di questa serie Non è proprio semplicissimo da fare Eh però potrebbe essere una gran figata Comunque prima c'erano le librerie Io me ne sono infischiato E adesso c'ho il tavolo degli incantesimi Da dover piazzare da qualche parte E dove caspita lo metto senza le librerie Eh bella domanda Vorrà dire che dobbiamo creare Una bella piattaforma Per la nostra libreria Barra tavolo degli incantesimi Il tavolo lo mettiamo esattamente qui Qui posso mettere tutta la libreria Però mi serve ancora legna Andiamo a mettere anche un po' di torcia Perché qua per colpa dell'isola La sua è tutto burro Fa tipo Che ne so Eclissi isolare Et voilà Dai Anche questa è fatta Poi provvederò io a sistemare Tutti i bordi Per far sì che non sia Una cagata pazzesca Anche questo sesto episodio This is the highland of January È terminato Spero veramente vi sia piaciuto Abbiamo fatto il botto di diamanti Se è così è stato Mi raccomando Spolliciate Condividete Se volete due episodi Arriviamo a 50.000 Mi piace Ci vediamo alla prossima Il prossimo video Qua da sapere le sue isolette È tutto Buongiorno Buongiorno